L'apertura della Cassazione alla revoca del carcere per Totò Riina, 86 anni, gravemente malato e perché ha diritto a una morte dignitosa, scatena le proteste dei parenti delle vittime di mafia e polemiche del mondo politico per la Presidente della Commissione Antimafia, Rosi Bindi. Riina in prigione, curato bene. Sono stati identificati i tre killer della strage di Londra, due di loro erano noti alla polizia inglese, l'attentato pesa sul voto di giovedì con Corbyn che chiede le dimissioni della Premier Theresa May, rivendicato dall'Isis. Anche un attacco terroristico di questa notte a Melbourne in Australia, uccisa una persona, feriti tre agenti. Arabia Saudita e i suoi alleati intanto rompono con il Qatar perché la motivazione finanzia i terroristi. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo contro i noti per lesioni plurime e gravissime per eventuali omissioni di chi doveva garantire la sicurezza nei fatti di Piazza San Carlo. Non si è ancora riusciti a capire cosa ha scatenato il fuggi-fuggi collettivo. Le opposizioni accusano la sindaca Appendino che si difende. Abbiamo seguito la prassi, dice fuori dal coma, il bambino cinese che era il più grave fra i feriti. Il testo della nuova legge elettorale è stato approvato dalla Commissione Affari Costituzionali e arriva oggi nell'aula della Camera. Già da domani inizieranno le votazioni a scrutinio segreto. Intanto Renzi è contro Pisapia, il nemico dice non siamo noi. L'unico voto che può scongiurare le larghe intese è quello per il PD. Ma dalla sinistra è un coro di critiche. Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. Allora partiamo dall'Italia con le grandi polemiche sulla affermazione della Cassazione che dice che tutti i detenuti hanno diritto a una morte dignitosa anche se si chiamano Totò Riina, il capo dei capi della mafia che è in condizioni molto gravi ed è detenuto come è noto in regime di 41 bis. La decisione spetta ora al Tribunale di Bologna, la decisione su un'eventuale scarcerazione mentre infuriano le polemiche politiche e non solo. Totò Riina è gravemente malato, ha diritto ad una morte dignitosa, un diritto che va assicurato ad ogni detenuto. Per la prima volta la Corte di Cassazione apre alla possibilità di una scarcerazione o di una detenzione attenuata per il capo di Cosa Nostra. 86 anni detenuto nel carcere di Parma con le restrizioni previste dall'articolo 41 bis. Finora tutte le richieste per una revoca del regime di carcere duro, il differimento della pena o in subordine la detenzione domiciliare più volte presentate dal suo difensore erano state respinte. La Suprema Corte chiede al Tribunale di Sorveglianza di Bologna, che lo scorso anno aveva respinto l'ultima istanza, di riesaminare le richieste perché, nelle motivazioni, aveva omesso di considerare il complessivo stato morboso di Riina e le sue condizioni generali di scadimento fisico. Fermarestando l'altissima pericolosità e l'indiscusso spessore criminale, scrive ancora la Cassazione, il Tribunale non ha chiarito come questa pericolosità debba considerarsi attuale in considerazione della sopravvenuta precarietà delle condizioni di salute e del suo stato di decadimento. Il capo dei capi, catturato 24 anni fa a Palermo, il super boss Plurier Gastolano, mai pentito, tra le cui condanne spiccano quelle per le stragi di Capaci e Via D'Amelio, per l'uccisione dei giudici Ciaccio Montalto e Terranova, del generale dalla Chiesa e di tanti uomini delle forze dell'ordine, soffre di patologie cardiache, renali e neurologiche. Così è apparso, tre mesi fa, nell'ultima immagine pubblica, una foto scattata in un'aula del Tribunale di Milano, dove si svolge l'ennesimo processo a suo carico. Molte, naturalmente, le reazioni quasi tutte contrarie alla possibilità di una scarcerazione, mentre insorgono i familiari delle vittime. Non c'è ragione per scarcerarlo o per trasferirlo, afferma dal canto suo il presidente della Commissione parlamentare antimafia Rosi Bimbi. C'è una persona malata, ma anche il dolore insanabile dei familiari delle vittime, dice Don Ciotti, fondatore dell'Associazione Libera. E un magistrato, Nicola Gratteri, entra nell'altro aspetto fondamentale del problema. Può ancora influire su Cosa Nostra? Un boss come lui, dice, può comandare anche con gli occhi. Andiamo in Gran Bretagna, dove le indagini sull'attentato di venerdì sulla nuova strage di venerdì sera hanno rivelato che un paio dei killer subito uccisi dalla polizia negli otto minuti di terrore nella capitale inglese erano già conosciuti alle forze dell'ordine. E questo è motivo di polemica politica. Si vota giovedì, quindi dopo domani nel Regno Unito, perché il leader laburista Corbyn attacca la Premier, Teresa May, e dice che è lei responsabile dei tagli alle forze dell'ordine che ci stanno mettendo in questa situazione. Un minuto di silenzio sotto la pioggia ha concluso. Ieri a Londra, la veglia voluta dal sindaco Sadie Khan per ricordare le vittime dell'attacco di sabato. Centinaia di persone hanno partecipato alla commemorazione tra ingenti ma discrete misure di sicurezza. Le indagini sull'attacco terroristico proseguono. Kurambat, cittadino britannico nato in Pakistan a 27 anni, sposato, padre di due figli. Scott Laliard ha annunciato che era lui il capo della cellula. Nelle immagini trasmesse dalla TV si vede mentre srotola una bandiera dell'ISIS a Regent Park. Era noto alla polizia ma non c'era alcuna evidenza che volesse fare un attentato, sostengono le forze dell'ordine. Nella TV irlandese ha svelato l'identità di un secondo attentatore, Rashid Redouan, 30 anni, di origini marocchine. Per qualche tempo aveva abitato a Dublino con la moglie scozzese. Ancora ignoto, invece, il terzo uomo del commando. Nella notte sono state rilasciate tutte le dieci persone, fermate per accertamenti nel corso delle indagini. Vanno avanti intanto le polemiche sui mancati controlli delle forze e dell'ordine, con il leader dell'opposizione, Corbyn, che accusa il governo per i continui tagli alle risorse destinate al sistema della sicurezza nazionale. Proprio il tema dell'antiterrorismo e dei controlli preventivi ormai ha affiancato nella campagna elettorale il capitolo della Brexit. La Premier, Theresa May, dal 2010 ha ricoperto la carica di ministro dell'Interno e alla sua politica si deve la riduzione del 19,5% di agenti sul campo in meno in sei anni e il calo da 370 a 170 milioni di sterline dei fondi destinati alla polizia di Londra. Corbyn, leader dei laburisti, in forte ripresa nei sondaggi, ha chiesto esplicitamente le dimissioni di Theresa May. Giovedì i cittadini britannici voteranno per le elezioni anticipate. Vi segnalo che giovedì sera, intorno alle 22.30, seguiremo il risultato delle elezioni nel Regno Unito con uno speciale condotto dal direttore Enrico Mentana. E c'è anche una crisi diplomatica in queste ore, intorno alle vicende del terrorismo. Arabia Saudita, Egitto e altri paesi hanno infatti rotto con il Qatar, accusato di sostenere, in qualche maniera anche finanziariamente, se non politicamente, proprio i terroristi. Ambasciatori cacciati in 48 ore, confine terrestre e blindato, voli sospesi, spazio aereo interdetto alla Qatar Airways. Il piccolo potente e ricco emirato, che ha interessi in mezzo a Europa, a cominciare dall'Italia, da ieri è isolato dai vicini paesi del Golfo. Arabia, Bahrain e Emirati Arabi Uniti hanno sospeso le relazioni con il vicino. L'accusa per il paese di Al Jazeera, e dove tra tre anni si terranno i mondiali di calcio, è di sostenere il terrorismo islamico e i fratelli musulmani, messi fuori legge, soprattutto in Egitto, dove hanno espresso un presidente, Morsi, eletto dopo le rivolte e deposto a favore di Al-Sisi. I raid, organizzati da quest'ultimo in Libia, hanno fatto sì che alla chiusura delle relazioni con il Qatar si accodasse proprio la Libia di Haftar, l'Egitto e le Maldive. Sono tutti paesi di religione islamica sunnita, alleati di Riyadh nella battaglia per il predominio regionale, in opposizione all'Iran shiita. L'antica guerra in terra all'Islam è ora ai massimi livelli. Il Qatar ha dato l'impressione di essere troppo indulgente proprio con Teheran, visto di nuovo da Washington come fumo negli occhi. Proprio la visita di Trump a Riyadh ha mostrato come sono cambiati gli equilibri. La nuova amministrazione è tornata a puntare sul vecchio e ambiguo alleato saudita per riportare nell'isolamento l'Iran. Un puzzle complesso che adesso vede il Qatar isolato dagli altri paesi del Golfo, ma ancora stretto alleato degli Stati Uniti, i cui jet partono dalla base di Doha per bombardare Siria e Iraq. Ma la novità delle ultime ore è l'attacco del terrorismo dell'Isis anche nell'emisfera australe, proprio in Australia, nei pressi di Melbourne. Un morto, tre feriti insieme al terrorista. Il terrorismo islamico torna a colpire anche in Australia. Questa notte Yacoub Khairi, 29enne di origini somale, ha chiamato una giovane escort in un condominio di Brighton a Melbourne e l'ha presa in ostaggio. Un dipendente del complesso residenziale che ha provato ad aiutare la ragazza è stato ucciso. La polizia è subito intervenuta e ha deciso di compiere un blitz durante il quale l'assalitore è stato ucciso, la donna liberata, e tre agenti sono rimasti feriti gravemente. Ma prima di essere abbattuto, Khairi ha avuto il tempo di chiamare un network televisivo al quale ha raccontato di agire in nome di Al Qaeda e dell'Isis. E poco dopo è arrivata la rivendicazione ufficiale del califato che attraverso la sua agenzia AMAC ha confermato che il killer era un soldato dell'Isis. Di certo era noto alle forze dell'ordine. Nel 2010 era stato assolto dall'accusa di aver pianificato un attacco suicida a una base militare di Sydney, mentre nel novembre scorso era stato scarcerato sulla parola dopo una condanna per crimini violenti ma non legati al terrorismo. L'attacco di questa notte a Melbourne sembra essere la tipica azione di un lupo solitario destinata comunque a scatenare polemiche. Lo stesso primo ministro australiano Malcolm Turnbull ha ammesso che è come minimo grave che un uomo con un tale curriculum criminale sia stato lasciato libero sulla parola. Ed ora a Torino dove c'è stato ieri un dibattito abbastanza caldo in Consiglio Comunale per i fatti di Piazza San Carlo, fatti per i quali indaga anche la Procura per gli eventi che hanno portato a oltre 1500 feriti. Fortunatamente sta un po' meglio il bambino di 7 anni di origini cinesi che era uno dei feriti più gravi. Non c'è ancora certezza su chi o cosa abbia scatenato panico e psicosi lo scorso sabato in Piazza San Carlo la notte della finale di Champions League. Ieri la Procura di Torino ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per i reati di lesioni personali plurime anche gravissime in danno di parti offese ancora da identificare. L'inchiesta riguarda anche le omissioni ovvero il comma 2 dell'articolo 40 del codice penale in base al quale non impedire un evento che sia equivale a cagionarlo. La Procura piemontese in questo comunicato ha escluso la finalità di terrorismo si escludono anche l'esplosione di petardi e bombe carta. Il lavoro della Procura viaggia parallelo a quello degli investigatori che stanno acquisendo tutti i filmati delle telecamere di videosorveglianza in piazza e di video dei tanti testimoni che anche ieri hanno sfilato in questura. Non solo cause e responsabilità da chiarire anche in che punto di Piazza San Carlo si è iniziato lo spostamento della massa. Scaggionato il ragazzo con lo zainetto, gli inquirenti hanno iniziato ad acquisire la documentazione amministrativa sull'organizzazione dell'evento, le disposizioni delle misure di sicurezza, di prevenzione, le modalità di accesso alla piazza e le autorizzazioni alla vendita di bevande in bottiglia di vetro già prima della partita per terra. C'erano migliaia di vetri frantumati, hanno raccontato molti testimoni. E della lotta ai venditori abusivi ne ha riferito ieri in Consiglio Comunale il sindaco Chiara Appendino, che ha chiesto più prevenzione contro gli abusivi. I toni del confronto tra la sindaca pentastellata e le opposizioni si sono inaspriti quando la Appendino ha ricordato come l'evento abbia seguito la prassi utilizzata da Fassino per la finale del 2015, dura la risposta dell'ex sindaco di Torino. Oggi la situazione non è quella del 2015 ed è grave non cogliere le differenze. La gestione della piazza è stata affrontata con superficialità. Di fronte ai feriti di Torino per il futuro, stoppa gli eventi senza sicurezza, detto il ministro dell'interno Marco Minniti. Intanto non è più in coma farmacologico Kelvin, il bambino di 7 anni rimasto ferito durante gli incidenti. Per quel che riguarda invece più strettamente il dibattito politico è polemica fra Renzi e Pisapia con l'ex sindaco di Milano che aveva fermato l'ipotesi di alleanze con il PD. Renzi gli ha risposto questo, mentre la legge elettorale marcia spedita e oggi arriva nell'aula di Montecitorio dopo essere stata licenziata in commissione. Nuova legge elettorale. La Camera dove approderà oggi potrebbe vararla già giovedì, mentre il Senato dovrebbe renderla definitiva entro la prima settimana di luglio. Al termine del lavoro a tappe forzate in commissione affari costituzionali di Montecitorio con sedute anche di sabato e domenica è questa la previsione dei partiti che la sostengono. Forza Italia, Movimento 5 Stelle, PD e Lega Nord. Dunque sarà un sistema proporzionale con collegi, listini e sbarramento al 5% che non piace a tutti i piccoli partiti, diverso invece l'umore dei quattro grandi. Di Maio per i grillini dice Varare una nuova legge elettorale con una larga maggioranza è pacificante e poi aggiunge Vogliamo fare una legge elettorale per andare al voto anticipato in modo che la legge di bilancio la faccia un Parlamento pienamente legittimato ma non c'è un accordo per nuove elezioni. Renzi invece interviene con la sua consueta e-news e rispondendo anche a Romano Prodi smentisce le voci che danno per certe le larghe intese per il dopovoto Non vogliamo allearci con il Cavaliere Renzi però per la prima volta attacca Giuliano Pisapia e lo iscrive alla sinistra radicale che fa polemica contro il PD in ogni momento e alla lista di centrosinistra a cui lavora Pisapia lancia subito il guanto di sfida L'unico modo per evitare le larghe intese puntualizza il segretario PD e votare il Partito Democratico non i partitini Ciò che ha in mente il segretario del PD sono liste molto larghe pescando al centro e a sinistra nell'associazionismo e nella società civile La Forza Italia comunque più che guardare al futuro si preferisce commentare il lavoro sul nuovo sistema di voto e Brunetta dice la Commissione ha approvato la nuova riforma della legge elettorale nel modello tedesco la proposta era quella di Berlusconi originariamente i quattro partiti più importanti hanno fatto sostanzialmente una convergenza su questo modello Infine da sinistra articolo 1 conferma il suo voto contro la legge elettorale attacca i grillini per aver abbandonato le preferenze a un loro vecchio cavallo di battaglia Balle si legge in un post sul blog di Grillo sono loro che stanno facendo di tutto per sabotare una normativa finalmente costituzionale MDP sta per mantenimento delle poltrone contro replica dei bersagnani 5 stelle volta faccia ci sono un paio di notizie di economia il ministro dello sviluppo Calenda ha firmato il decreto che assegna al gruppo indiano Arcelor Mittal e a Marcegaglia l'Ilva mentre oggi saranno aperte le buste delle offerte per l'Italia sono una ventina le manifestazioni di interesse che oggi saranno scremate e poi c'è la cronaca è stato scarcerato il Rom che era stato arrestato per il rogo che quasi un mese fa provocò a Roma la morte di tre giovani nomade ha riacquistato la libertà Serif Seferovic il Rom sospettato dalla procura di Roma di essere il responsabile della morte delle tre sorelle a Lelovic bruciate vive il 10 maggio scorso nel camper in cui vivevano a 100 celle alle porte di Roma oggi saranno eseguiti gli accertamenti tecnici ripetibili su tracce biologiche per comparare il DNA dell'indagato con le tracce rilevate sul luogo della tragedia esami che potranno dire qualcosa in più sull'eventuale colpevolezza del ventenne il GIP di Torino Alessandra Danieli ha convalidato il fermo ma non ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere la decisione che ha provocato aspre polemiche è stata motivata dalla mancanza di gravi indizi di colpevolezza a carico di Seferovic interrogato dal GIP del capoluogo piemontese l'indagato ha dichiarato di non trovarsi sul luogo dell'incendio la notte del rogo in cui hanno perso la vita Elisabeth Francesca e Angelica di 20, 8 e 4 anni non c'entro nulla ero lontano con la mia famiglia in un'aria di sosta a prati fiscari ha raccontato ma secondo gli inquirenti da alcune immagini riprese da una videocamera di sorveglianza sembrerebbe che sia stato proprio lui ad appiccare il fuoco nel camper il padre delle ragazzine era da tempo in contrasto con la famiglia Seferovic il giovane era stato già arrestato per aver scippato a dicembre una studentessa cinese morta e investita da un treno mentre inseguiva i suoi aggressori Seferovic condannato a due anni di carcere non ha scontato la pena perché è incensurato Siamo allo sport torna la nazionale domani c'è l'impegno con un amichevole con l'Uruguay si gioca a Nizza e poi domenica a Udine partita di qualificazione per i mondiali l'impegno è quello non insormontabile con il Liechtenstein Forse il ritorno in nazionale renderà meno amari questi giorni ai cinque juventini reduci dalla serataccia di Cardiff ieri Buffon Bonucci Chiellini Barzagli e Marchisio si sono aggregati agli altri azzurri del CT Ventura in vista dell'amichevole di domani a Nizza contro l'Uruguay e della gara di domenica a Udine con Liechtenstein valida per le qualificazioni ai mondiali inizia di fatto il periodo propedeutico alla sfida decisiva con la Spagna a settembre Ventura lavora verso questo obiettivo cercando ancora il giusto equilibrio tra l'esperienza dei senatori e la freschezza dei più giovani intanto Verratti lascia il ritiro per un problema muscolare e anche Bernardeschi potrebbe dare forfè al centro dell'attenzione oltre all'uomo mercato Donnarumma ci sono i bianconeri reduci dalla finale di Champions per Buffon Bonucci e Pjanic è arrivata comunque una soddisfazione i tre juventini figurano nella squadra dell'anno stilata dalla UEFA insieme a loro tre giocatori dell'Atletico Madrid Messi e Ronaldo per un totale di 12 spagnoli due del Monaco e uno del Bayern Monaco Lewandowski restando in azzurro storica impresa della nazionale Under 20 che per la prima volta nella sua storia si qualifica alle semifinali del mondiale di categoria una grande Italia guidata dal cuore e dal carattere si è imposta sullo Zambia per 3 a 2 ai tempi supplementari dopo aver giocato in 10 uomini gran parte della partita ed aver rimontato per due volte lo svantaggio davvero un'impresa perché nonostante l'aiuto della VAR la tanto invocata Moviola in campo l'arbitro aveva concesso un calcio di rigore inesistente ai nostri avversari espellendo anche l'incolpevole Pezzella poi dopo aver visto i replay ha cancellato il rigore ma non l'espulsione riuscendo a sbagliare anche con l'ausilio dei filmati per la Moviola non c'è davvero pace allora fra poco previsioni meteo con Paolo Sottocorona subito dopo c'è Omnibus gli ospiti di Alessandra Sardoni di oggi sono Daniele Bellasio del Sole 24 Ore Claudio Borghi della Lega Nord c'è Marcus Brunner-Meyer della Princeton University e poi Ferdinando Giuliano di Bloomberg Roberto Gualtieri del PD e Stefano Parisi di Energie per l'Italia 13.30 alla prossima edizione del telegiornale noi invece ci vediamo domattina alle 7 con Omnibus News grazie arrivederci grazie a tutti